Alessandra Di Meo, componente dell'esecutivo provinciale dei Giovanni Democratici, ieri pomeriggio c'è stato un evento di presentazione dei vostri giovani candidati alle prossime elezioni politiche. Sì, ieri sera abbiamo fatto un'importante iniziativa a Caffè Cannavacciolo, in cui abbiamo presentato i candidati under 30 presenti all'interno della lista alla Camera. Ci sembrava un qualcosa di doveroso, innanzitutto per mantenere comunque vivo un contatto con le persone che ci seguono e anche con tutto il resto della cittadinanza, cioè far conoscere a chi non lo sapesse i candidati under 30 che si sono messi in gioco, perché anche se si è giovani è importante comunque per portare avanti un progetto di rinnovamento avere il coraggio di mettersi in gioco in prima persona. Quanti sono all'interno della lista i vostri candidati giovanissimi? I candidati sono ben tre, under 30, tutti appartenenti all'organizzazione giovanile di cui noi facciamo parte, che sono i giovani democratici. In particolare, nelle precedenti primarie, noi abbiamo sostenuto una candidatura, che è quella di Regina Milo, che è una militante come noi, in cui noi ci siamo potuti rispecchiare e che non ha fatto nient'altro che metterci tanta passione, tanto lavoro, tanto impegno, tanto coraggio. Questo è un ulteriore segnale che il PD a Pozzuoli punta sul rinnovo e sui giovani. Voi avete anche un segretario cittadino che è giovanissimo, ha solo 23 anni. Sì, esatto. Noi a Pozzuoli cerchiamo sempre di puntare sui ragazzi come noi, sui giovani della nostra età, perché crediamo in questo progetto di rinnovamento e per portare avanti questo progetto è necessario non soltanto mettersi in gioco, ma appoggiare realmente chi come noi, ragazzi della nostra età, che decidono di fare politica in un periodo difficile come questo. Siamo riusciti ad ottenere un segretario giovanissimo che ha soltanto 23 anni e che ha rappresentato sempre un punto di riferimento per noi, così come tutti gli altri giovani che decidono di mettersi in gioco e di andare a parlare alla gente dei temi che a noi sono cari, che sono il tema del lavoro, il tema della legalità, il tema dei diritti, che sono tematiche fondamentali su cui la nostra generazione deve puntare.